del vostro caro giucherellone che oggi vi porta addirittura brawl star facciamo il sondagione ti piace vediamo un pochettino brawl star brawl da un pochettino stars e un pochettino facciamo il sondagione ragazzi il sondagione del giucherellone avviamo subito brawl star e vediamo ovviamente che cosa abbiamo una bella schermata nera perché ragazzi abbiamo questa guardate guardate cosa succede vedete il puntatore che si muove quindi vuol dire che sta succedendo sicuramente qualcosa è arrivato donut ragazzi donut e lorenzo perazzo a io e lorenzo perazzo quindi mi raccomando donut mi raccomando lorenzo perazzo siate pronti per giocare siamo pronti per giocare il mitico dragon farciao matteo forza inter eccolo qua ragazzi è stato aggiornato brawl star quindi ragazzi se volete giocare come pete non bene ma benissimo addirittura chi è Gesù ragazzi guardate chi è apparso chi è apparso Gesù iniziamo quindi subito ovviamente a giocare perché in brawl star oggi in questa giornata ci si divertirà ragazzi tantissimo oggi in uno star troppo ha avuto gelido era avuto lo star troppo in gelido incredibile incredibile ragazzi complimenti a dragon fire complimenti a tutti quanti perfetto